Allora, eccoli qua i due protagonisti di questa partita. Insomma, in tre minuti avete sistemato le cose. Partiamo da chi ha realizzato il primo gol. Sì, abbiamo fatto i due gol in poco tempo, abbiamo risolto la partita subito. È stato meglio così, perché tirarla fino alla fine era un po' dura. Siamo riusciti a passare in vantaggio e siamo stati bravi anche a mantenerlo, perché non hanno mollato loro. Insomma, hai detto, è entrato da Polonia, devo segnare anch'io. Era ora, dai. No, vabbè, a parte quello, sono contento per il gol, ma più che altro sono contento perché la squadra ha fatto una bella partita. Siamo riusciti a essere solidi. Forse una volta che non ci abbia messo del nostro per far prendere gol, ci hanno fatto un errore gol, sono stati bravi. Però, come ho detto prima, la squadra non ha mollato fino all'ultimo e siamo riusciti a portare a casa la vittoria. A questo punto ci si domanda, ma da Polonia è lui che mette quel pepe in più alla partita? No, io metto a disposizione le mie caratteristiche, la squadra che cerca la mia velocità o magari di andare in profondità con le cose là. Io cerco di metterla a disposizione della squadra. Comunque è merito della squadra se riesco a fare gol o magari a tenere in alto la palla. Comunque siamo stati molto bravi questa sera a recuperare un svantaggio e va bene così. Adesso ti devi abituare alle interviste perché se continui così ogni gol che fai è un'intervista. Per quanto riguarda così la situazione della disposizione in campo, c'è stata un po' di novità ovviamente. Come ve l'aveva impostata il mister? Come avete visto voi, siamo partiti con due o tre quartisti e una punta. Poi durante la gara se ci sono da cambiare qualcosa, perché c'è un avversario, comunque ci adattiamo e soffrendo e sacrificandosi tutti ci impegniamo per cercare di dare il meglio e di essere utili. Questa vittoria arriva veramente in un momento importante della stagione. Può essere, come si usa dire, quelle vittorie che possono dare quello scatto, quel cambio di marce di questa stagione? Quando si vince fa sempre uno morale e due ti fa sempre piacere, nel senso che comunque la vittoria ci fa credere che noi sappiamo di essere una buona squadra e la vittoria comunque ci dà da ben sperare. Però anche le partite che magari sono andate male di risultato o perso, la squadra comunque ci è sempre stata e ha sempre dato il massimo. Poi non siamo riusciti a portare a casa il risultato, però ripeto, la squadra ci è sempre stata. Poi certo, quando vinci va sempre meglio. Diciamo che in campo c'era anche un signore di nome Principalli, si è visto subito la sua presenza, sembrava casa sua il centrocampo. Quanto importanza è avere un giocatore di questa esperienza per voi? Nicola è un ottimo giocatore, si vede, è esperienza, sa quando tenere palla, sa come gestirla ed è anche bravo a recuperarle. Quindi è molto importante per noi anche Nicola e non solo Nicola ma anche Migliorini e anche tutto il centrocampo, come tutta la difesa e come tutto l'attacco. Questa è la seconda vittoria fuori casa, a questo punto bisogna anche sfatare questo tabù penso. Tabù penso, domenica siamo là e daremo il massimo per vincere, ce lo dobbiamo mettere tutto e dobbiamo riuscire a portare a casa il risultato. Adesso vi godete alla grande questo weekend, discoteca, pazza gioia? La discoteca non lo so, comunque ce lo passiamo bene, meglio degli altri di sicuro. Genitori contentissimi, ti seguono ovunque. Penso di sì, penso proprio di sì. Bene, congratulazioni ragazzi. Grazie a te, arrivederci.